Penalizzata da una differenza a reti globale di soli 4 gol nei confronti del Villa Biagio, la San Giovannese al momento occupa il sesto posto del girone e purtroppo non il quinto in coabitazione. Per riuscire ad entrare negli spareggi appare più semplice peraltro fare più punti degli Umbri rispetto che riuscire a ribaltare questo gap negativo, a meno di non trovare una singola goleada nelle sfide da oggi al 6 di maggio. C'è un piccolo vantaggio che però non è trascurabile nel calendario ed è quello di non avere più alcun confronto diretto con chi sta davanti, mentre le prime 5 si sfideranno ancora e inesorabilmente qualcuno dovrà perdere punti. Agguantare il quinto posto, non lontano neppure dal quarto e dal terzo possiamo dirlo, passa però subito dalla sfida con il tutto cuoio, prima assoluta dei neroverdi al Fedini domenica prossima. Vedoci dallo stop interno con il Sansepolcro, i rappresentanti di Ponte Egola non possono permettersi passi falsi per evitare di perdere l'attuale vantaggio di due punti sulla zona play-out. Sarà insomma una gara sulla falsa riga di quella di San Mauro, visto che i Romagnoli, passati in vantaggio immediatamente, hanno poi lasciato l'iniziativa al Marzocco e per l'appunto gli azzurri stanno mostrando in questa fase finale una maturità tecnico-tattica che a volte era mancata nelle gare e nei momenti decisivi ad inizio stagione. La tabella play-off è già pronta e per il momento servono almeno 9 punti per pensare di centrare l'obiettivo, anche se settimanalmente questa può evolversi a seconda dei risultati delle avversarie dirette, sperando in un passo falso del Villa Biagio con la San Maurese o del Forlì con la Vigor Carpaneto.